E' mistero sulle ultime ore di un insegnante di 53 anni di Ribera che è stato ritrovato morto questa mattina a Bisacquino, in provincia di Palermo, dove svolgeva la sua professione. L'allarme era scattato già da 24 ore, dopo che l'uomo, uscito normalmente come ogni mattina da casa sua per recarsi nel piccolo centro palermitano, non aveva fatto il ritorno una volta conclusa la giornata lavorativa, al termine della quale non aveva però partecipato nemmeno alla riunione dei docenti della scuola dove lavorava. La moglie del professionista aveva presentato denunce ai carabinieri, preoccupata dal mancato ritorno del consorte. Ore di ansia in attesa di notizie che purtroppo hanno avuto il loro tragico epilogo nella mattinata di oggi. Adesso sarà il momento delle indagini da parte degli investigatori, soprattutto per cercare di stabilire le cause del decesso, gli eventuali spostamenti dopo che di lui si erano perse le tracce e capire se abbia o meno incontrato qualcuno.